Allora, Anna, una domanda, noi siamo in chiusura, ma domanda velocissima. Allora, Italia qualificata agli ottavi, ancora 3-0, non avete perso neanche un set in questa prima fase? Sì, in questa prima fase diciamo che era più importante guardare il nostro gioco e ovviamente ci fa piacere non aver perso un set e speriamo di continuare così. Consuelo è una domanda veloce? No, io la lascio andare perché so che devi andare a fare le altre interviste. Grazie, grazie mille Anna, complimenti.